Siracusa nella classifica tra le città più belle d'Italia nel 2020, Siracusa al sesto posto. Travel Blogger ha assinato la top 10 delle città più belle d'Italia ad occupare la sesta posizione Siracusa che ha ottenuto ottimi punteggi per quanto riguarda la storia e i servizi, meno per lo svago. A pari merito con Siracusa c'è anche Siena, Palermo, Verona, Ferrara, Trieste, Parma, Milano, Mantua e infine al quindicesimo posto Bergamo. Buona posizione per Positano a lungo la costiera amalfitana, premiata in particolare per i suoi scenari di mozzafiato oltre che per la gastronomia e per Taormina per la sua storia e il suo patrimonio archeologico. Sul podio non ci sono grosse sorprese, al terzo Firenze, al secondo Roma, al primo Venezia che secondo i Travel Blogger è la città più bella d'Italia. Ma se da un lato si fanno bilanci e dall'altro si programma già il 2020. Travel 365 è una sorta di enciclopedia dei viaggi online, ha stirato la classifica delle città più belle d'Italia da visitare il prossimo anno indicando anche il periodo ideale per poterlo fare. Ecco la top 15. Venezia periodo inverno, Roma periodo primavera, Firenze periodo inverno, Napoli periodo estate, Siena periodo estate, Siracusa periodo estate, San Gimignano periodo primavera, Palermo periodo estate, Verona periodo inverno, Ferrara periodo primavera, Trieste periodo primavera, Parma periodo primavera, Milano a periodo autunno, Manto a periodo primavera, Bergamo a periodo primavera.